Conosci le carriere frutti dell'albero corniolo, Cornus must, è la famiglia delle cornacee, un arbusto alto fino a 6 metri con crescita molto lenta e un albero molto longevo con un legno molto duro. Questi sono i suoi frutti che maturano in estate, ricordano un po' le ciliegie ma un po' più allungate come un'oliva allungata. Questa è la foglia che è una foglia semplice, uvata, un po' arrotondata con l'immagine leggermente ondulato. C'è questo apice acuto e di un bel verde si vedono le nervature primarie e secondarie. Ecco, quando il frutto è ancora acerbo e immaturo così come adesso non erano ancora maturi in Germania, le abbiamo trovate addirittura nei parchi, non me l'aspettavo, belli, abbondanti ma acerbi. In questo modo si potevano mettere sotto salamoia, una preparazione che mi piace tanto, quindi diventano un po' come le prugne o meboshi, chi li conosce, altrimenti va benissimo per confetture, per aromatizzare grappe o liquori o per fare un fruttato ketchup speciale.